Un incidente stradale ha messo fine ad Iceland alone il giro dell'Islanda del corridore di Galliera Veneta Andrea Budu Toniolo. Il giovane sabato scorso è stato investito da un'auto riportando lesioni alla spalla e dalla caviglia destra. Si trovava a 15 chilometri dalla città di Vik con 20 a 70 chilometri orari e temperatura sotto i 5 gradi. Nonostante i forti dolori è riuscito a raggiungere un centro abitato dopo altre tre ore di cammino. Nelle prossime ore farà rientro in Italia.